allora salve a tutti scusatemi per questa inquadratura ma c'è facebook da pc che in questo momento da problemi quindi andiamo con la videocamera esterna allora ben ritrovati e benvenuti a questo momento di approfondimento di analisi delle alcune novità alcune disposizioni che abbiamo in questa giornata e che vi voglio brevemente illustrare appunto per tenerci aggiornati su quello che è il panorama normativo allora andiamo a vederle come al solito il materiale che vi illustro che vi metto a disposizione poi sarà disponibile direttamente nei link che vi riporterò partiamo dalla un interessante documento che il garante per la privacy ha pubblicato e che è la raccolta della normativa relativa al trattamento dei dati personali durante il periodo di covid quindi sono i materiali documenti normativi riferiti esclusivamente a questo periodo li andiamo a scorrere velocemente il complesso normativo è significativo ovviamente non sono tutte norme che parlano direttamente del garante o della disciplina in materia di trattamento dati personali ma indirettamente ne trattano e quindi sono importanti sono rilevanti io vi ho evidenziato in giallo vedete sono numerose vi ho evidenziato in giallo quelle più interessanti eccole qua si parte dalla disciplina della protezione civile che nella sua normativa generale prevede il rispetto delle norme in materia di trattamento dati personali per poi andare invece a vedere le deroghe alla disciplina sul trattamento dei dati personali che la normativa emergenziale invece adotta e che appunto troviamo citate ad esempio già la delibera che stabilisce il periodo di durata dell'emergenza sanitaria è una delibera che vedete in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento quindi è una delibera che va fondamentalmente in deroga alle vigenti disposizioni questo compresi il trattamento dati personali disposizioni che poi sono richiamate nei provvedimenti successivi ma su questo ci sarà sicuramente occasione di approfondimento e di analisi nelle nei successivi incontri allora altro provvedimento l'ho accennato anche ieri molto importante sia perché si occupa della parte commerciale sia che per chi si occupa di gestione del personale è la circolare dell'agenzia delle entrate numero 8 del 3 aprile 2020 che nelle risposte ai quesiti formulate formulati sull'applicazione della normativa anti covid ovviamente tratta di alcuni temi importantissimi che sono anche quelli per esempio dei 100 euro piuttosto che ovviamente di tutta la parte fiscale del versamento dei tributi delle proroghe liquidazione iva documenti di trasporto modello intrastat redazione dei inventari 730 accertamenti adesioni e per esempio appunto tutte le misure specifiche per il sostegno alle imprese ai lavoratori e agli autonomi anche se sul punto potrebbero esserci delle novità normative e come vi dicevo anche disposizioni sul premio dei 100 euro ai lavoratori chi ne ha diritto con chi non ha diritto una di queste è proprio relativa agli smart worker e esplicitamente sì in risposta a un quesito si precisa che lo smart working non dà diritto alla fruizione dei 100 euro perché la finalità della norma è chiaramente quella di supportare chi ha svolto presenza fisica in ufficio riguardo sempre allo smart working vi segnalo questa decisione presa che vi ho anticipato anche questa ieri nel nell'ambito della l'intervento che ho fatto sul lavoro agile l'accordo fra ministero per i beni e le attività culturali per il turismo e le organizzazioni sindacali dove appunto si prevede che durante l'emergenza chi svolge la propria prestazione lavorativa in modalità smart ha diritto all'erogazione del buono pasto qualora effetti un orario giornaliero superiore a sei ore con la relativa pausa quindi estende diciamo così la disciplina del buono pasto allo smart working noi sappiamo che la circolare del ministero della pubblica amministrazione del primo aprile prevede espressamente che non c'è un diritto automatico al buono pasto salvo accordi con le organizzazioni sindacali il giorno dopo è partita la trattativa del ministero dei beni culturali e si è conclusa appunto con questa accordo e confronto del 2 di aprile che ovviamente apre la strada o può aprire la strada anche ad altri accordi a livello aziendale quindi da questo punto di vista può esserci una novità una aspettate che ecco prova a mettere un po meglio allora altro tema che sarà oggetto dei prossimi giorni le regioni si stanno muovendo per adottare misure a livello regionale quindi siamo passati da una estensione a livello nazionale delle misure di contenimento e stiamo andando a la previsione di misure articolate a livello regionale sebbene il decreto 19 sia un decreto molto centralista abbiamo regione toscana ordinanza del presidente della giunta regionale 23 aprile e 23 del 3 aprile 2020 che disciplina le modalità di effettuazione del tampone rapido scusatemi termini non tecnici diciamo del test seriologico rapido nei confronti degli operatori sanitari degli operatori ospiti di strutture socio sanitarie del personale volontariato delle farmacie del personale addetto agli istituti penitenziari delle forze dell'ordine anche locali e dei vigili del fuoco e chiunque in forma singola associata svolga un'attività lavorativa di assistenza o sostegno alla popolazione anziano e o fragile quindi sembrerebbe badanti o anche singoli che svolgono questa attività ovviamente test a carico del servizio sanitario regionale a titolo individuale poi se il medico di medicina generale o il pediatra di famiglia lo richiede il singolo può effettuare il test questo è un tema molto di attualità perché c'è molta richiesta da parte della cittadinanza di effettuare queste tipologie di test tant'è che molte aziende private si stanno organizzando per proporre test seriologici rapidi quindi stiamo vivendo una sorta di corsa di rincorsa fra il privato e il pubblico nella ricerca della risposta da dare a questi casi vi segnalo che l'ordinanza anche se in una forma diciamo particolare prevede che attesa la scarsità di test seriologici rapidi a disposizione al di fuori degli ambiti di quelle lettere a e b del punto 1 è fatto divieto di procedere all'effettuazione di test seriologici rapidi quindi sembra chiaramente un divieto per i punti analisi le strutture sanitarie private di effettuare questi test quindi una sorta di requisizione diciamo da parte del pubblico di questi test per poter essere fatti in quelle condizioni a quei soggetti ok è chiaro è poi nel comunicato stampa della regione è più esplicito il riferimento a questo punto 4 dell'ordinanza regionale ma per dirvi che la questione è emersa anche in altri contesti ok non soltanto in toscana veneto 3 aprile la regione veneto ha preparato un'ordinanza e l'andiamo a vedere questa ordinanza prevede la proroga della propria precedente ordinanza del 20 marzo 2020 che come sapete le ordinanze regionali antecedenti al decreto legge scadevano il 5 aprile quindi domani quindi al fine di prorogare diciamo comunque far salvi questi effetti la regione ha adottato questa ordinanza proprio esplicita di proroga fino al 13 aprile attenzione salva la cessazione anticipata per effetto di quanto disposto dal decreto legge il decreto legge 19 prevede che le ordinanze regionali cessino di produrre effetti all'approvazione della prima ordinanza o dpcm statale quindi correttamente questa ordinanza a tempo a tempo perché non può durare più di 30 giorni e qui è indicato il 13 aprile che è la data di proroga del delle misure di contenimento nazionali comunque possibile cessazione anticipata e diciamo il contenuto è quello della precedente ordinanza a cui si aggiungono altri altri limiti quindi si proroga la precedente e si dice divieto di commercio nei mercati all'aperto o al chiuso anche di genere alimentari vietati prodotti florovivaistici cartene simili vedremo che su questo sta iniziando una guerra stato regioni molto molto brutta diciamo da vedersi anche dal punto di vista comunicativo obbligo per gli esercizi commerciali di ammettere solo persone con mascherine e guanti commercio di cancelleria consentito in questo caso è ampliativa della normativa nazionale quindi il codice a teco cancelleria che è vietato diciamo al momento è consentito negli esercizi di genere alimentari poi consentite opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere e l'applicazione delle sanzioni amministrative a favore della regione per la violazione di queste disposizioni dopodiché l'ordinanza è trasmessa al consiglio dei ministri per l'eventuale recepimento con dpcm vi segnalo molto interessante perché la prima che ho trovato penso la prima in assoluto l'ordinanza del ministero della salute di intesa con la regione emilia romagna quindi per la prima volta si adotta un provvedimento che fa seguito alla proposta di una regione quindi l'emilia romagna differenza del veneto della toscana e vedremo della campania ha deciso di non fare un'ordinanza propria ma di proporre il contenuto dell'ordinanza al ministero della salute che l'ha recepita quindi vista la nota del 3 aprile stesso giorno con il quale il presidente della regione emilia romagna in ragione della peculiare situazione epidemiologica rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legge 19 emana la seguente ordinanza attenzione è la prima ordinanza statale da un mese a questa parte che reintroduce differenze di regime giuridico all'interno del territorio nazionale fino ad oggi eravamo passati dal sistema delle zone rosse o del nord regolamentato a parte al sistema della regolamentazione nazionale adesso torniamo per la prima volta ad un'ordinanza statale che disciplina solo alcuni territori regionali come detto diciamo non è l'unica strada perché abbiamo visto ci sono già ordinanze di singole regioni poi vedremo quella della campagna è forse la più la più estesa in emilia romagna quindi solo in emilia romagna le strutture alberghiere che non sono sospese possono erogare servizi diversi dall'accoglienza affini turistici sono sospesi nei giorni feriali festivi e prefestivi mercati di qualunque genere è sospeso il commercio itinerante su area pubblica questo è molto importante perché la sospensione in emilia romagna attenzione potrebbe portare allo spostamento alla migrazione di questi operatori itineranti su area pubblica a mio avviso vietati in questo in questa fase in tutto il territorio nazionale però diciamo che il fatto che l'ordinanza l'abbia spesa espressamente significa che c'è una divergenza di opinioni ecco lo spostamento di questi operatori nelle altre regioni confinanti quindi attenzione a questo effetto migratorio chiusura dei cimiteri comunali a mio avviso da chiudere dal 3 dall 11 marzo è autorizzata esclusivamente la vendita su tutto il territorio nazionale destro delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese quindi una deroga diciamo al limite previsto dalla normativa che aveva individuato in due giorni il 28 di marzo il limite entro cui potevano eliminare diciamo le scorte di magazzino adesso è consentito poi ci sono norme specifiche per la provincia di rimini e piacenza ovviamente per coloro che sono nella regione lo leggano l'ordinanza cessa il 13 aprile 2020 e ovviamente la sanzione quella del decreto legge 19 perché ricordo il decreto legge si applica non solo ai dpcm ma anche all'ordinanza del ministero della salute in attuazione dell'articolo 2 comma 1 e 2 del decreto legge firmato vedete anche qui è una novità dal punto di vista giuridico lo segnalo come diciamo documento di interesse anche dal punto di vista amministrativo è un'ordinanza a doppia firma ministro della salute presidente della regione come vi preannunciavo non poteva mancare la regione campania con l'ordinanza del 3 aprile numero 27 conferma ordinanze e adozione di nuove nuove misure quindi simile a quella del veneto dove il presidente della regione campania conferma le precedenti ordinanze adesso le vediamo eccole qui ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte integrano le condizioni del decreto legge 19 ordina con decorrenza odierna fino al 13 aprile la conferma delle ordinanze 16 2020 19 2020 con alcune precisazioni sui cantieri 20 2020 21 2020 23 2020 24 25 e 26 2020 in più 11 12 3 aprile siccome ecco stiamo andando verso le celebrazioni della pasqua che in campania danno vita a cerimonie su area pubblica a processioni che possono avere un impatto di assembramento significativo ecco vengono previsti espressi di di vieti non solo viene raccomandata la diocesi di ridurre al minimo le manifestazioni e le iniziative proprio per evitare che siano fonte attrattiva i comuni di controllare le piazze durante queste manifestazioni quindi vedete la forte attenzione che c'è al pericolo di questo periodo di queste tradizioni millenarie diciamo centenarie che potrebbero portare nuovi assembramenti e nuovi focolai il riferimento alle sanzioni amministrative e la comunicazione al consiglio dei ministri per il suo recepimento in dpcm quindi l'iter è simile a questo cioè a differenza dell'emilia romagna che non ha fatto un'ordinanza ma ha chiesto direttamente l'adozione dell'ordinanza del ministero della salute la campania ha fatto l'ordinanza e ha chiesto la ratifica con dpcm ok questo così an passant per dire anche i diversi legami rapporti momenti di collegamento di vicinanza di collaborazione fra i vari enti istituzionali ancora probabilmente un po critici un altro documento che vi voglio segnalare è questo della corte dei conti il decreto primo aprile pubblicato in gazzetta ufficiale il 3 aprile in vigore da oggi che informatizza i processi alla corte dei conti anche qui il covid ha fatto delle rivoluzioni in pochi giorni siamo riusciti a digitalizzare il processo contabile dove si dice le udienze si fanno tutte in videoconferenza la videoconferenza si fa convocando tramite pec la presenza la si accerta tramite pec un po quel consiglio che davo io i primi tempi ma come facciamo nelle riunioni di giunta e di consiglio ad accertarsi che sia presente gli trasmetti una pec ti fai rispondere che è presente la pec è personale legata al soggetto quindi se risponde è sicuramente lì e quindi sei certo della tracciabilità di questa presenza e poi niente le misure compresa ecco la misura per eccellenza che dà il segno del cambiamento epocale anche culturale sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo ancora non si è avuto il coraggio di dire eliminazione dell'obbligo di deposito cartaceo però insomma intanto è un passo avanti la cosiddetta copia di cortesia o copia cartacea conforme all'originale non va più depositata si fa tutto in modalità telematica e elettronica altro importante documento è aggiornamento delle indicazioni relative alle diagnosi di laboratorio per i test vedete molto simile all'intervento fatto dalla regione toscana è uno dei temi caldi quello dei test rapidi dei test diagnostici sulla l'esistenza del virus molte regioni premono per farlo diciamo su larga scala c'è ovviamente il problema dell'approvvigionamento di questi strumenti e qui ci sono un po di misure tecniche per realizzare questi test e l'indicazione dei laboratori che effettuano questi test quindi molto importante per la gestione sanitaria sui fiori sui fiori ve l'ho detto c'è un un forte dibattito che sta dando luogo anche ad equivoci significativi come abbiamo visto regioni lo stanno vietando non solo la vendita al dettaglio ma addirittura la vendita nei vivai mentre abbiamo dei ministri che su facebook hanno annunciato che si possono vendere al dettaglio fiore e piante ora io vi segnalo squisitamente dal punto di vista giuridico e non è assolutamente una critica all'azione del ministero è soltanto una questione giuridica il ministro dichiara mi si pone il problema per cui il codice ateco dei fiorai non è compreso nell'elenco delle attività che possono aprire quindi è vero cioè quello che stiamo dicendo è il codice ateco non lo consente ora le si pone un problema certo si pone a tutti a tutti gli altri 500 codici ateco che non sono in elenco lo stesso problema tuttavia ovviamente essendo il ministro delle politiche agricole dice siccome io guardo diciamo ai miei settori al settore dei fiorai l'obiezione è comprensibile purtroppo è tutt'altro che semplice districarsi fra norme interpretazioni autentiche e successiva applicazione ora sinceramente questo lo possiamo dire noi che siamo gli attuatori ma chi fa le norme magari anche no nel senso che districarsi fra queste norme è conseguenza delle norme che sono state fatte allora conclude dicendo beh nonostante che sia vietato e nonostante che le norme siano complicate vendano pure fiori questo rischia di generare seri problemi in serie di vigilanza perché magari in buona fede chi sente una dichiarazione di un ministro della repubblica potrebbe essere intenzionato ad aprire l'attività e magari trovarsi un verbale di contestazione ricordo appunto che per quanto riguarda i fiori mentre non ci sono dubbi sulla possibilità di coltivarli sono nei codici ateco verdi quindi consentiti non è possibile per gli agenti rappresentanti di commercio effettuare la propria attività è possibile il commercio all'ingrosso di fiori e piante non è possibile il commercio a dettaglio 47.76.10 o meglio non è possibile salvo comunicazione al prefetto quindi l'indicazione forse poteva essere ai prefetti di non bloccare le eventuali attività di commercio al dettaglio di fiori che avessero comunicato di proseguire a supporto dell'emergenza ok poi magari la motivazione non so quale poteva essere però questo è la situazione vi segnalo dei documenti che trovate sul sito di un'associazione di polizia locale marco polo che sta realizzando delle bozze di documenti anche in formato editabile utili per esempio questa è l'informativa sul trattamento dei dati personali relativi ai verbali di polizia locale ora io l'avevo già realizzata una bozza molto più stringata cioè da poter mettere nel verbale proprio quattro righe però questo ovviamente è quella più complessa e completa da eventualmente aggiungere che trovate anche in formato editabile poi vi metto il link del del sito interessanti documenti insomma da leggere 180 pagine sono le note di lettura del senato della repubblica dell'ufficio studi del senato della repubblica relativamente alla conversione in legge del decreto legge 18 sia nella versione breve 13 pagine quindi commentate comma per comma articolo per l'articolo sia nella versione più complessa questa dove oltre al vedete per ogni articolo c'è proprio l'analisi dettagliata e che magari può essere utile per chi non ha avuto occasione di guardarlo mi sembra che il grosso delle cose che volevo dire l'ho dette e niente ci vediamo prossimamente e mandatemi pure materiale per i prossimi commenti ed aggiornamenti se non ci sono novità ci sentiamo direttamente domani mattina presto per i commenti della mattinata ciao a tutti